buonasera buonasera benvenuti tutti quanti a questa seduta scientifica che ha anche una connotazione commemorativa in cui adesso parleremo subito del benvenuto anche ai numerosi amici e amiche che stanno ci seguono in web e come dicevo l'accademia di medicina ha ritenuto di dar via alla commemorazione del professor Angeli in quanto conformemente al regolamento ci è pervenuto una richiesta da parte degli allievi di organizzare una serata commemorativa appunto in sua memoria pertanto intanto ringrazio il professor Terzolo che si è reso disponibile per questa convenza credo gradita e gli lascerei subito la parola in modo che cominciamo subito poi è previsto anche un intervento dell'ordine dei medici il vicepresidente mi ha chiamato oggi pomeriggio speriamo che arrivi se non arrivi in tempo lo farà dopo prego Massimo professor Esaia membri dell'accademia di medicina grazie mille per questa opportunità è un vero onore per me essere qua stasera a ricordare il professor Angeli che per il quale l'accademia di medicina ha significato molto come voi come voi ben sapete è difficile in pochi minuti ricordare il professor Angeli e io cercherò di farlo in un modo personale quindi mi correrò dei rischi ma penso che non gli sarebbe piaciuta una così elencazione di tutte i suoi meriti delle cose che ha fatto dei suoi riconoscimenti accademici cercherò invece di ricordare alcune cose forse un po più personali e quindi senza dubbio ricordare il professore come un medico umanista per il professore la medicina non era solo una scienza era un'arte e ci metteva in guardia ripetutamente dalla figura di un medico che diventa solo un tecnico magari un grande tecnico espertissimo delle sue cose di una parte sempre più piccola della medicina ma non sapeva calare questo sempre crescente numero di test diagnostici di terapie nel quadro clinico e soprattutto non metteva il paziente al centro del ragionamento clinico il paziente doveva essere al centro del ragionamento clinico bisognava riprendere a parlare col paziente l'importanza dell'anamnesi per capire anche le paure del paziente i suoi desideri spesso professore diceva noi impostiamo dei processi diagnostico terapeutici che soddisfano noi che fanno stare meglio noi che ci tolgono incertezza ci mettono al sicuro ma magari questo non risponde a ciò che il paziente veramente desidera e poi un approccio olistico al paziente cioè non una super specializzazione bisognava curare il paziente non curare delle malattie non curare degli esami alterati e credo che sia per questo che lui endocrinologo di formazione ha scelto la medicina interna come specialità nella quale è poi diventato professore ordinario perché la medicina interna garantisce un approccio appunto più omnicomprensivo al paziente ed è più vicina a questi aspetti umanistici che gli stavano molto cuore che gli derivavano anche da una profonda cultura umanistica il professor angeli era però questo non ci deve far dimenticare che è stato un grande ricercatore credeva molto al laboratorio e infatti il laboratorio ha sempre avuto un'importanza notevole nelle ricerche del professor angeli nelle nostre ricerche il laboratorio era una palestra in cui anche i ricercatori clinici dovevano addestrarsi e mi ricordo che diceva sempre la ricerca è un po' come una competizione va bene noi non potremo arrivare primi perché siamo troppo piccoli siamo pochi però l'importante è arrivare tra i primi mettersi alla prova quindi la ricerca come un momento di crescita perché tu ti devi confrontare eh con altri eh con situazioni anche in ambienti internazionali e poi fare ricerca per saper criticare perché se uno sa cos'è la ricerca può sapere criticare i risultati ormai c'è una proliferazione di riviste scientifiche di articoli e può diventare difficile eh saper criticare e non prendere eh in modo eh assoluto ciò che viene detto e spesso con situazioni molto 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 divergenti eh tra loro eh parlando della ricerca che era certamente una delle sue eh passioni e direi userei questo termine proprio eh a ragione veduta certamente gli steroidi che però ha studiato anche qui non in un aspetto settoriale specifico ma cercando di vedere come le interazioni degli steroidi in tutti gli ambiti della medicina interna eh come modulatori dell'infiammazione del sistema immunitario eh aspetti gastroenterologici eh aspetti eh sulla patologia ossea e eh qui c'è il professore Isaia che è stato un grande esperto anche di questo che è un grande esperto anche di questo e il professor Angeli ha veramente cercato di declinare questo suo interesse per gli steroidi in molti in molti campi. La cronobiologia che eh il professore ha introdotto in Italia e che all'inizio veniva vista quasi come una curiosità mentre invece eh ha eh oggi anche degli aspetti terapeutici importanti. E infine i tumori endocrini. Stasera si parlerà di tumori surrenalici perché non non c'è tempo di parlare di tutto ma non vanno eh dimenticati i tumori neuroendocrini, i tumori della tiroide eh tutti questi aspetti eh cioè veramente eh eh il professor Angeli ha fatto crescere noi che che lo abbiamo seguito, che abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lui e ognuno ha portato il suo contributo e si può dire che veramente c'era eh un aspetto sia clinico che di ricerca che andava su tanti ambiti anche se il nostro gruppo, il suo gruppo non è mai stato estremamente numeroso ma eh ci davamo da fare perché lui ci dava l'esempio, era un lavoratore instancabile eh tante volte gli si dava una cosa da correggere eh lui la correggeva la notte e il mattino successivo ti dava il lavoro eh che lui amava correggere scrivendo a mano eh corretto. Ma non è stato solo un medico, adesso io non voglio entrare negli aspetti più intimi, più privati eh di quanto ha significato per la sua famiglia, per i suoi amici, ma anche per noi che siamo stati i suoi allievi, i suoi collaboratori ha significato tantissimo, è una persona piacevolissima, una persona coltissima che era sempre un passo avanti però non te lo faceva pesare e tra i miei ricordi più belli del tempo passato con lui ci sono viaggi a congressi in cui fuori dal dal tempo dedicato ai meeting si andava a visitare un museo, a visitare dei posti e venivi arricchito sempre dal parlare con il professore. E poi voglio ricordare due cose che sono inusuali e ci danno bene eh un esempio del del suo eclettismo culturale, della sua vulcanica eh capacità di ehm affrontare mille imprese diverse. Ha contribuito alla traduzione dal greco degli aforismi di Ippocate insieme all'amico Carena e ha eh contribuito a fondare il centro antidoping, quindi anche con degli aspetti politici non irrilevanti, centro antidoping che è stato fondamentale per la riuscita delle Olimpiadi Invernali del 2006. Mi ricordo che quattro anni prima era andato alle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City proprio per vedere come funzionava il centro antidoping. Ecco questo mi fermo qui per non togliere poi tempo alla seduta scientifica, sono sicuro che al professore non sarebbe piaciuto eh una eh prolungare molto questo. Non so se è arrivato il dottor Regis così possiamo dargli la parola. Grazie. 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 Grazie Massimo per questa tua essenziale, asciutta ma estremamente efficace commemorazione perché concordo con te, a lui non sarebbe piaciuto eh insomma troppi fronzoli e troppi salamelecchi, quindi eh grazie veramente. Eh abbiamo qui il dottor Guido Regis che eh vicepresidente dell'ordine dei medici che dirà due parole e poi consegnerà ai familiari anche la targa ricordo. Comunque parlerà lui. Prego. Allora intanto buonasera è un'emozione essere qui con voi ehm per per ricordare il professor Angeli. Dirò due due cose che qualcosa forse già è stato detto dal professor Terzolo ehm però insomma qualcosa forse non non vi stupirà ecco ma perché è legato anche alla sua alla partecipazione del professor Angeli nel consiglio dell'ordine. Infatti il professor Angeli è stato consigliere dell'ordine dal dal di Torino dal duemila duemila e cinque e poi è presidente della commissione formazione dell'ordine. Nel duemila tredici cui ha partecipato come come la maggior parte dei i medici della della sua generazione alla cerimonia alla cerimonia di premiazione che facciamo ogni anno e in quel caso appunto per i cinquant'anni di laurea e in quella quella in quell'occasione ha scritto due righe di presentazione di se stesso e in quelle in quella presentazione diede ulteriormente dimostrazione di quella che era la sua sobrietà e e anche modestia oltre che la grande sensibilità. Quindi io ho preso un po' da questa da questa sua da sua presentazione proprio per raccontare ciò che evidentemente lui aveva piacere di raccontare di se stesso. Qui innanzitutto manifestò la gioia di poter condividere quel momento insieme alla famiglia. Poi sottolineò il suo impegno in qualità di consigliere dell'ordine per due mandati, la sua carriera di direttore di clinica medica universitaria del dipartimento di medicina interna e specialistica integrata all'azienda ospedaliera universitaria San Luigi di Gonzaga, la sua carica di presidente dell'Accademia di Medicina di Torino a cui teneva, citò semplicemente la copertura di varie cariche istituzionali in società scientifiche nazionali ed internazionali. Io non credo lo fece solo perché sarebbe stato davvero impossibile elencarle tutte per chi ha avuto modo di leggere il suo curriculum e conoscerlo bene. In quella sede ricordò con orgoglio di aver svolto all'ingotto la lettura magistrale introduttiva alla manifestazione del centenario della fondazione degli ordini medici. Fece ovviamente riferimento ai suoi vari interessi culturali che sono stati anche citati dal professor Terazzolo, però portò come principale testimonianza ed orgoglio la traduzione ed il commento con Carlo Carena degli aforismi di Ippocrate. Ecco io avrei avuto e avrei piacere ovviamente di parlare a lungo di lui anche come come mio professore perché è stato il mio professore di patologia medica e successivamente anche se per breve tempo come guida in alcune questioni dell'ordine, sono poi subentrato nel 2006 nell'ordine. Ecco mi limito a dire che io ricordo le sue lezioni, erano un concentrato di cultura medica spiegata in modo affascinante e semplice, ma soprattutto di consigli indiretti a noi studenti su come imparare non a fare i medici, ma a essere medici e proprio a come parlando di patologia medica, imparare a considerare le persone, non le malattie. Ce lo fece capire più volte. Poi consentitemi, così forse un po' una infantile nota personale, ci tengo. Io negli anni 70, primi anni 80, sono stato uno studente lavoratore e quindi ho avuto inevitabili difficoltà a seguire sempre le lezioni, anche a potermi presentare a tutti gli esami alle prime sessioni con un'adeguata preparazione. Nonostante tutto sono riuscito a superare con il tanto anelato 30 qualche esame, ma assolutamente in modo immeritato, mentre a volte sono stato anche respinto o accettato di voti inferiori al 25, quando ero convinto di essere molto preparato, preparato fino anche a prendere 30. E questo un pochino mi aveva, questo mi è successo raramente, se mi è chiaro, mi è successo. Durante il periodo universitario, come tanti probabilmente noi, anche perché eravamo veramente un mondo all'epoca, non c'era il numero chiuso, quindi la selezione è stata fatta pesantemente durante il periodo universitario. Avevamo e io ho avuto spesso la sensazione che anche docenti che apprezzavo non fossero forse in grado di dare la corretta valutazione, almeno nel mio caso. Ecco, lui è stato uno dei pochissimi docenti che secondo me seppe valutarmi in modo per me ritenuto corretto e mi diede 25. E per me fu una gioia incredibile, proprio per questo motivo, anche superiore ai pochissimi 30 lode che avevo preso. Quindi per me è veramente un onore, oltre che una grande emozione, partecipare al suo ricordo e in questa sede consegnare la targa ai suoi figli, che lui non ha potuto ritirare qualche settimana fa quando abbiamo fatto la cerimonia di premiazione degli sessant'anni di laurea. Se posso permettermi. Vediamo la foto, poi la diamo poi all'ordine. Grazie. Grazie, grazie Guido. Ringrazio anche il Consiglio dell'Ordine per la sensibilità e vorrei soltanto concludere questa brevissima cerimonia con piccola annotazione di carattere personale perché il professor Angeli oltre a essere stato un mio professore, un mio collega, il presidente dell'Accademia quando ero già nell'ufficio di presidenza, quindi ho conosciuto molto bene e siamo sempre andati d'accordo, non abbiamo mai avuto una parola per nulla, persona molto franca, quindi si poteva dire quello che si voleva e lui rispondeva in modo adeguato. Ho sempre trovato bene e l'Accademia di Medicina ha già collocato la fotografia del professor Angeli nella sezione dedicata ai presidenti. Io l'ho commemorato a Bari due settimane fa al congresso nazionale della SIUMS, che è la società italiana dell'osteoporosi di cui lui faceva parte. Lo ricorderemo ancora al convegno della Fondazione Ferrero, ad Alba, che sarà a novembre del 2023, perché anche a questa manifestazione lui ha sempre partecipato. E vorrevo concludere con una notazione di carattere un po' più personale della famiglia, perché ricordiamo tutti il professor Angeli, ma ricordiamo tutti anche la signora Annita, che veniva... che per anni ha provveduto a posizione floreale in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e appunto la ricordiamo anche per questo, oltre che per essere stata per anni l'ombra insostituibile di Alberto. Quindi io credo che con questa asciutta commemorazione, come dicevo, piaceva a lui, sarebbe piaciuta a lui, credo possiamo concludere e se mi consentite vi chiederei qualche secondo di raccoglimento. Grazie. E certamente non lo dimenticheremo, questo sia chiaro. Amici, qui ce ne sono tanti, vedo molti colleghi e amici che hanno fatto parte del Consiglio dell'Accademia in tutti questi anni, vedo molti allievi, certamente ha lasciato un ricordo importante, ma non lo dico per piageria, perché chi mi conosce sa che non sono molto propenso ai complimenti gratuiti, ma certamente è stato un colosso nella medicina interna, nell'endocrinologia torinese e anche sul piano umano, come è stato ben sottolineato, ha dato il suo contributo. Bene, grazie. Adesso passiamo alla parte scientifica e tornerai a dare la parola a Marcipo Terzolo che ha cambiato la giacchetta e parlerà invece dell'aspetto scientifico. Prego. Sì, solo qualche diapositiva per introdurre il tema. Perché ho scelto questo titolo? I tumori surrenalici sono uno dei tanti aspetti che il professor Angeli ha approfondito nella sua carriera e effettivamente possiamo pensare ai tumori surrenalici come ad un ombrello, una definizione di ombrello che comprende, come potete vedere nella diapositiva che riporta la nostra serie a San Luigi. Certo, in grande parte tumori benigni, ma vedremo che anche questi tumori benigni possono causare danno ai loro portatori, ma anche tumori maligni e anche metastasi di tumori surrenalici, che qui sono poco rappresentati perché avevamo escluso a priori i pazienti oncologici, ma che invece in casistiche dove questa esclusione non viene fatta sono ben rappresentati. Quindi effettivamente è una situazione molto proteiforme. E mi è piaciuto anche rimettere questo titolo di una lettura che insieme al professor abbiamo fatto un po' di anni fa, l'incidente a loma surrenalico, una malattia della tecnologia moderna. Perché tumori surrenalici che erano ritenuti rari, in realtà nella pratica clinica odierna non sono affatto rari, perché il crescente utilizzo delle tecniche d'immagine ha fatto sì che questi tumori vengano scoperti per lo più in modo occasionale, cioè si fa un esame d'immagine, un attack, una risonanza per un qualche motivo, che non è il sospetto di una patologia surrenalica, ma alla fine si scopre la presenza di un tumore surrenalico. Sono sicuro che poi Giorgio Borretta citerà questo studio, che abbiamo concluso ultimamente, e che fa vedere come su una serie prospettica di circa 600 pazienti ambulatoriali sottoposti a TAC per diversi motivi, quindi ben il 7% aveva poi la scoperta di una massa surrenalica che non era precedentemente sospettata. Quindi un problema che ha anche dimensioni epidemiologiche importanti, che è stato confermato anche da questo studio del gruppo ENSAT, che è un network europeo di centri di riferimento sulla patologia surrenalica, uno studio prospettico di oltre 2000 casi, l'88% sono tumori benigni, ma andando a studiare questi tumori benigni con un test adesametazone, si vede che il 50% di questi circa ha una secrezione autonoma di cortisolo. Per chi non è familiare con la fisiopatologia endocrina, un brevissimo ricordo di come la secrezione di cortisolo sia sotto il controllo molto preciso della CTH, rilasciato dall'ipofisi, con il test al desametazone noi diamo un segnale di eccesso di cortisolo per cui si spegne la secrezione di ACTH e quindi si dovrebbe ridurre la secrezione di cortisolo e quindi vedere un livello basso nel prelievo che noi facciamo la mattina successiva all'assunzione del desametazone serale. Ma in presenza di un tumore benigno questa risposta non c'è più, la secrezione è autonoma e questo può risultare in un modesto eccesso di cortisolo ma che può avere le sue conseguenze. E questo è un dibattito che va avanti da oltre una ventina d'anni perché in questi pazienti abbiamo un'evidenza biochimica di un eccesso di cortisolo, spesso molto modesta, spesso lo troviamo in questi tumori scoperti occasionalmente, i cosiddetti incidentalomi, questi pazienti non hanno le classiche stigmate cliniche del Cushing ma hanno tutta una serie di malattie che sono largamente presenti nella popolazione generale ma sono potenzialmente attribuibili all'eccesso di cortisolo come l'ipertensione, il diabete, l'obesità centrale e non ultima l'osteoporosi. E una delle intuizioni del professore, e mi piace citare questo editoriale che scrivemmo assieme vent'anni fa, è proprio che il Cushing subclinico, come veniva chiamato allora, potesse essere un fattore aggiuntivo di rischio cardiovascolare on top, come si dice nella letteratura glossassene, agli altri fattori geneticamente determinati, acquisiti e alle comorbidità precedenti. Vent'anni dopo, ci abbiamo messo forse troppo tempo, e mi spiace che il professore non abbia potuto leggere questo studio, in un lavoro che abbiamo coordinato insieme agli amici tedeschi, siamo riusciti a dimostrare, non in modo definitivo, ma comunque è una buona dimostrazione su una grossa casistica di più di 3.000 pazienti, come la mortalità fosse aumentata nei pazienti che avevano una secrezione autonoma di coltisolo. Sono le righe rosse e blu, diversi gradi di autonomia funzionale, rispetto ai pazienti con tumori non funzionanti. In questa analisi statistica avevamo aggiustato per tutti i fattori di rischio maggiori. E quindi questa è effettivamente una dimostrazione che l'intuizione del professore di come il Cushing subclinico sia effettivamente una malattia fosse nel giusto. E detto questo, lascio la parola al dottor Borretta per la sua relazione. Grazie. Mentre Borretta prepara le diapositive, volevo soltanto precisare, per chi non lo conoscesse, che è primario di endocrinologia all'ospedale di Cuneo ed è allievo del professor Angeli, come peraltro anche il professor Berrutti che seguirà, che invece ha fatto la strada accademica ed è invece il professor ordinario di oncologia all'Università di Brescia. Prego, Giorgio. Grazie Giancarlo. Sono molto onorato anch'io di essere qui stasera e di ricordare il maestro. Io ho, come ha detto il professor Isaia, una carriera ospedaliera. Lascia il gruppo già all'inizio degli anni Ottanta, ma questo non mi ha impedito di continuare a collaborare con il professore e con i suoi allievi e proprio su alcune di queste collaborazioni mi soffermerò brevemente in questa breve presentazione. Io conodio il professor Angeli nella seconda metà degli anni Settanta quando il professor Lenti mi disse, ma se sei interessato a questo tipo di problematiche, ero ancora studente di medicina ovviamente, vai a sentire iscriviti al corso di malattie di ricambio che era tenuto all'epoca del professor Angeli. Mi rimasi subito affascinato, colpito, diventai subito un suo allievo con grande passione, lo seguì e mi laureai appunto con lui nel 1980 discutendo una tesi insieme a Mauro Papotti e al professor Bussolati che vedo qui tra i presenti. Bene, abbandoniamo il passato e veniamo all'epoca più recente e per restare nell'argomento scelto dal professor Terzolo ho voluto proprio anche nel ricordo di questo approccio iniziale ai disturbi del metabolismo, concentrarmi sulle relazioni tra la patologia surrenale che in particolare i tumori surrenalici e il diabete e più in generale il metabolismo glicidico. Le relazioni fisiopatologiche tra l'eccesso di cortisolo e lo sviluppo di diabete sono ben conosciute tutti, non mi soffermo e vengo subito al primo studio di collaborazione con il nostro gruppo ospedaliero cunese, di endocrinologi cunesi, che fu pubblicato nel 2002, ebbe un certo successo in quanto fu anche premiato come miglior studio nel 2002 pubblicato su GSM, la rivista ufficiale dell'Endocrine Society, questo ci riempì di orgoglio e so che anche il professor fu molto contento di questo successo. In questo studio valutamo un gruppo di pazienti con incidente alloma surrenalico senza le caratteristiche fenotipiche della sindrome di Cushing, di età inferiore a 70 anni, non diabetici, e confrontammo con una quarantina di pazienti gozuti senza ipartiroidismo e notammo in questo studio come i pazienti con incidente alloma surrenalico avevano una frequenza di diabete di alterazione della toleranza glucidica molto più elevata, significativamente più elevata rispetto ai gozuti e non solo, ma anche una ridotta sensibilità insulinica che tra l'altro correlava significativamente con i livelli notturni di cortisodemia. Poi scomponendo questo gruppo in due, fondamentalmente in due, osservammo come quelli con Cushing subclinico avevano una glicemia a due euro del carico orale di glucosio più elevata rispetto a quelli senza Cushing subclinico e anche questi una ridotta sensibilità all'insulina. E concludiamo appunto con un punto interrogativo, ipotizzando che l'incidente alloma surrenalico in qualche misura potesse avere un ruolo patogenetico nello sviluppo in alcuni casi della sindrome metabolica. Questi sono i risultati salienti di quello studio. Ora, il Cushing determina tutta una serie di complicanze a voi ben note, tra cui anche l'insorgenza di diabete. Il diabete è presente o la ridotta toleranza glucidica nella maggioranza dei pazienti con sindrome di Cushing, probabilmente la frequenza di questa anomalia è addirittura sottostimata ed è correlata alla severità dell'ipercortisolismo. Resta ancora non ben definito invece il peso, come diceva prima il professor Trezzolo, anche se qualche elemento in più, e a questo abbiamo dato anche il nostro piccolo contributo, dell'eccesso lieve appena sfumato di cortisolo nei portatori, ad esempio, di incendente alloma surrenalico. Ma se la sindrome di Cushing è una malattia rara o comunque ancora oggi considerata relativamente rara, non lo è affatto il diabete tipo 2. Allora ci siamo posti la domanda, ma nel diabete tipo 2 è possibile che vi sia una quota di pazienti con ipercortisolismo che non vengono diagnosticati o vengono diagnosticati con una relativamente bassa frequenza. Bene, conducemo uno studio che fu pubblicato su una clinica endocrinologia nel 2007, sempre uno studio di collaborazione con il nostro gruppo Cuneese, in cui sottoponemmo un centinaio di pazienti con diabete alla diagnosi ad uno screening della sindrome di Cushing e rilevammo che 5 di questi presentavano livelli di cortisolo non sopprimibili al desametazone bassa dose, anche dopo aver ricompensato il diabete ovviamente, li rivalutammo a distanza di 3-6 mesi per allontanarci dall'evento acuto e ridurre il rischio di falsi positivi e alla fine, ricontrollando i testi di soppressione anche con un LIDL1, cioè con una delle dose più alti di desametazone, alla fine venne fuori che uno dei 5 aveva effettivamente una sindrome di Cushing sostenuto da una denoma ipotisaria CTH-6-Cernet, rimosso il quale il suo fabbisogno insulinico precipitò immediatamente nell'arco di pochi giorni. Sulla base di questi dati costruimmo poi all'epoca uno studio multicentrico nazionale a cui parteciparono oltre 20 centri di diabetologia di tutta Italia prospettico di screening della sindrome di Cushing nei pazienti ambulatoriali estremamente eterogenea affetti da diabete tipo 2 di diversa durata con variabile grado di scompenso. In questo studio che fu pubblicato sempre su JCM, su oltre 800 pazienti diabetici tipo 2 e a tutt'oggi resta lo studio più numeroso in letteratura, di fatti ancora oggi molto citato, rilevammo una quarantina di pazienti che non sopprimevano adeguatamente il cortisolo. Questi pazienti furono poi sottoposti ai test di conferma, con dosaggi più elevati di desametezone e ne risultarono poi alla fine sei effettivamente effetti da una sindrome di Cushing che non era stata mai sospettata in precedenza. Ovviamente non avevano le caratteristiche fenotipiche classiche della sindrome di Cushing perché questa rappresentava un criterio di esclusione. Questo risultato evidenziò dunque una prevalenza di sindrome di Cushing nel diabete tipo 2 ambulatoriale intorno allo 0,6-0,7%, quindi un po' inferiore rispetto a quelle precedenze riportate in letteratura che arrivava fino al 3%, ma comunque sufficiente alla luce dei nostri dati a considerare più opportuno non uno screening universale della sindrome di Cushing nel diabete tipo 2 che ripeto è una malattia molto frequente, ma un approccio case finding quindi basato su dei criteri clinici ben precisi, quali appunto una resistenza al trattamento ipoglicemizzante, il trattamento antipertensivo, l'insorgenza precoce o un'evoluzione progressiva, rapidamente progressiva delle complicanze cardiovascolari come spie e marcatori di un possibile Cushing sottostante misconosciuto. Vado velocemente e mi fermo all'ultimo studio pubblicato in collaborazione con il gruppo del professor Angeli questo studio è già stato citato da Massimo Terzolo, è uno studio recente condotto su una casistica numerosa di TAC addominali consecutive per cause diverse dalla patologia sorrenalica e per cause diverse da malattia oncologica in cui abbiamo rilevato, come diceva il professor Terzolo, una percentuale di casi di incidente a Roma del 7% leggermente superiore a quella riportata in letteratura in studi retrospettivi questo invece era uno studio prospettico, anche questo è pubblicato su JCM e abbiamo rilevato fondamentalmente questo, cioè che tra tutti i fattori associati alla presenza di un incidente a Roma, quello significativamente correlato al rischio di diagnosi di incidente a Roma era il diabete. L'unico fattore che ha una regressione multipla, manteneva un ruolo predittivo indipendente, quindi confermando anche da questo punto di vista un ipotetico legame fisiopatologico tra funzione sorrenalica e rischio di sviluppare il diabete. E con questo concludo, grazie. Grazie Giorgio, la discussione la facciamo poi alla fine, trattasi quindi di argomenti abbastanza omogenei e quindi darei la parola a Alfredo Berrutti che ringraziamo per la partecipazione lo vediamo con piacere e simpatia dopo tanti anni Adesso lavora e abita a Brescia e quindi col professor Angeli ha sviluppato un sodalizio di cui adesso sicuramente troveremo traccia nella sua relazione. Prego. Grazie, grazie. Davvero per me è un grande piacere essere qua e sono davvero emozionato nel fare questa relazione, commemorazione del mio grande maestro. il professor Alberto Angeli. La mia relazione ovviamente facendo di un oncologo merito verterà sull'aspetto di patologie maligne della ghiandola sorrenalica quindi la rarità della rarità. In effetti come già è stato detto stiamo a parlare di una ghiandola complessa, in realtà sono due ghiandole in una poi gli oncologi sono un po' meno raffinati degli endocrinologi ovviamente si fermano qua, però effettivamente la parte centrale quando si ammala di forme maligne si chiama feocromocitoma è la parte periferica che, a differenza di quella centrale, produce mineralocorticoidi, glucorticoidi e ormoni sessuali da origine al carcinoma della corticala delle surrene. noi ci avvicinammo a questa ghiandola, così che raramente si ammala di forme maligne grazie allo stimolo che avemmo dal professor Angeli ma non vi parlerò della complessità di tutta la patologia maligna del surrene ma mi soffermerò su una delle due patologie che vi dicevo prima sul carcinoma della corticala delle surrene. Perché? Perché proprio questa patologia in particolare, in cui con il professor Angeli portiamo avanti numerosi lavori scientifici. Stiamo parlando quindi di una malattia che colpisce un caso su un milione, quindi 60 casi ogni anno in Italia si ammalano di questa malattia, sono più le donne che si ammalano, ma soprattutto se vedete la distribuzione dell'età si ammalano malauguratamente anche i bambini, ma nell'età adulta si ammalano persone intorno ai 40 anni, quindi è vero che è una patologia rara ma è una patologia che quando colpisce, colpisce persone nel pieno dell'attività sociale e lavorativa. E questi i nostri mentori, il professor Angeli insieme al suo amico e compagno di grandi studi di grandi lavoro insieme è Gigi Dugliole, due personaggi diversi, molto diversi tra di loro, ma grandi amici, grandi amici che seppero darci in un modo diverso, di impulsi giusti per crescere, per lavorare insieme, per fare squadra. E questo è il gruppo, allora non ci sono tutti, e mi scuso con le persone che non sono raffigurati qua, ma il motivo per cui non ci sono tutti perché non avevo trovato le foto da piccoli, quindi manca Fabio Orlandi, manca Piero Paccotti, manca Francesco Propiglia, mi scuso già fin d'ora perché mancano delle persone, ma questo gruppo è un gruppo formidabile, formidabile perché sotto il stimolo di il professor Angeli e del suo amico, fraterno, Gigi Dugliotti, ha fatto veramente delle grandi cose e sono orgoglioso, visto che sono migrato da qualche anno in un altro Ateneo, sono orgoglioso di aver lavorato per tanti anni con questo gruppo. E dove partimmo? Come sempre si parte osservando dei casi, e eravamo ancora all'ospedale San Vito, quindi io conosco il professor Angeli nel 1981 all'ospedale Molinette, nel grosso clinica medica del professor Cereso, dove ci sono formati grandi nomi della medicina, io volevo fare endocrinologo, ma il professor Angeli a un certo punto mi disse, ma guarda che è più opportuno che tu faccia l'oncologo medico e così lavori con Gigi Dugliotti e così insieme tutto questo gruppo diede origine ad una grande clinica medica e intaurò la prima oncologia universitaria del Piemonte. Vedremmo queste due ragazze, il nome me li ricordo ancora adesso, una si chiamava Sabrina, un'altra incoronata, che avevano una sindrome di Cushing veramente molto importante e non sapevamo come fare. Allora ci consultammo, come facevamo nei nostri briefing, e decidemmo di mettere insieme uno schema terapeutico, che fu proprio in questi casi messo a punto, uno schema terapeutico che prevedeva il mitotane, che era un farmaco che conoscevamo già, perché usavamo da tanto tempo, un derivato di ADP, ma aggiungemmo una chemioterapia, perché sapevamo che il mitotane non era efficace nell'immediato. e mettemmo insieme questo schema, ADP, etoposide, adriamicina e platinum. In realtà non inventammo di sana piante al tutto, saremmo non corretti nel dire questo, ma trasferimmo nel calcinoma delle surrene uno schema che era già noto in quei tempi, uno schema che avevano messo in piedi gli autori tedeschi, per curare il calcinoma dello stomaco, e noi trasferimmo questo stesso schema per il calcinoma delle surrene. Perché questo schema? Perché dalla letteratura emergeva come l'adriamicina, il cisplatino, l'etoposide, avevano dato qualche risultato, quindi aveva senso mettere tutti questi farmaci insieme per fare uno schema che poteva essere utile. Queste ragazze avevano avuto un buon risultato, erano sopravvisite per parecchi mesi, però purtroppo non ce la fecero, ma i risultati che avevamo ottenuto effettivamente furono interessanti e ci spinsero da andare avanti. E poi uno dei grandi stimoli del professor Angeli e del professor Dogliotti erano quei di dirci ma avete trovato delle cose, siamo un gruppo che sta lavorando su questo, dobbiamo assolutamente dare visibilità. Allora nel 1994 organizzammo il primo congresso dedicato ai tumori del surrene, non ho una foto del professor Angeli, ma qui c'è una diapositiva in cui il professor Dogliotti modera una sessione insieme a Andrew Barges, che era il referente per il calcinoma del surrene dell'MD Anderson Cancer Center di Houston, che abbiamo invitato per l'occasione a Torino. E quindi fu un congresso che aveva una notevole rilevanza e fu di grande successo. Scrivamo anche una prima regio in cui spieghiamo i motivi per cui avevamo introdotto lo schema. E' toposia di Ramicina e Platino insieme alle mitotane. Facciamo un salto di tanti anni, arriviamo nel 2020, sono state scritte le linee guida, le linee guida europee, le linee guida europee in cui ovviamente sì io che Massa abbiamo partecipato, ma perché vi faccio vedere questa diapositiva? Perché cosa si dice in questa diapositiva? Si dice che la chirurgia nella fase precoce è il trattamento ottimale, ma poi subito dopo si dice nei pazienti che sono ad alto rischio è molto importante introdurre una terapia aggiuvante, preventiva con il mitotane perché la probabilità che questi pazienti possano andare in conto recidiva è molto alta, fino al 70%. Ma da dove è venuta fuori questa raccomandazione? Ebbene è venuta fuori non da tanto tempo, da molto tempo prima che iniziassemo a lavorare. Vedete come nel 1993, parlando proprio di terapia aggiuvante del surrene, questo editoriale è uscito sulla rivista Cancer e diceva il mitotane non serve, non somministriamolo a pazienti che facciamo del surrene, si riferiva però a degli studi discutibili sul piano della metodologia di lavoro. E fu un'idea di Massimo, fu un'idea di Massimo quella di dire ma in Italia siamo in una situazione particolarmente favorevole perché ci sono dei centri che hanno adottato il mitotane a tutti i pazienti, fra cui eravamo noi, e ce ne sono altri in cui hanno deciso di non somministrare mai il mitotane. Quindi avevamo la possibilità di confrontare delle casistiche consecutive di diversi centri, ma consecutive, e poter fare un confronto per quel che riguarda la prognosi di questi pazienti. E fu una grande idea perché uscì sulla rivista più importante che c'è in medicina, su New England Journal of Medicine, e uscì con una particolare rilevanza perché fu accompagnata da un editoriale. Grande successo, ma vorrei notare come quando discutemmo della distribuzione dei nomi il professor Angeli ci disse dobbiamo blindare lo studio, dobbiamo far vedere che è uno studio che nasce dal San Luigi, di Orbassano, ma il primo nome è Massimo Terzolo e l'ultimo nome sono io. Il nome del professor Angeli è il secondo e il nome del professor D'Otto è il penultimo. Questo sottolinea la grandezza, non si pubblica sempre su New England, si pubblica forse una volta nella vita. Eppure c'è stato il riconoscimento che siete voi che avete lavorato, siete voi che vi siete impegnati su questo, è giusto che abbiate il nome di rilievo. Questo fu un grande regalo che ci fece il professor Angeli. E che cosa incolga la consistenza di questo studio? Ebbene, è stata recuperata tutta la casistica di centri italiani, vedete che 47 pazienti seguiti in centri che davano sempre la mitotana a tutti, di pazienti operati, venivano confrontati con 55 pazienti che invece non avevano ricevuto la mitotana di Uvante. Per rafforzare il risultato è stato reclutato un terzo gruppo tedesco derivante dal registro tumori del carcinoma del surrano tedesco e i risultati fecero vedere per la prima volta come effettivamente il mitotana è efficace nel ridurre il rischio di recidiva e nel migliorare la sopravvivenza. Ed è ovviamente con molta emozione che quelle curve costruite nel nostro computer del San Uvigi venissero poi state pubblicate su una rivista così importante. E quindi fu sicuramente un paper che fece storia da quel momento lì in poi in tutto il mondo il mitotane venne somministrato in adiuvanti nei pazienti ad attorismo. Ma quali erano i pazienti ad attorismo? Ebbene quelli che avevano determinate caratteristiche. Ma per rafforzare il concetto dell'efficacia del mitotane Massimo e altri collaboratori coordinò uno studio internazionale in cui in tutti i pazienti trattati con mitotane in adiuvanti si dimostrò che i livelli del farmaco erano prognostici per cui se i livelli del farmaco sono prognostici è un altro segno indiretto che il farmaco funziona. Ma dicevo prima come differenziare i pazienti ad alto rischio da quelli a rischio più basso? Ebbene ad Ann Arbor in Michigan in cui è un'occasione di un congresso internazionale facciamo una tavola rotonda per decidere quali erano i criteri per separare l'alto rischio dal rischio intermedio basso. E il K.I.67 fu immediatamente un parametro che misura l'attività proliferativa importante. Quindi in quel consesso decidemmo che in quella ad alto rischio era giusto dare i mitotani e gli altri si poteva decidere caso per caso. Naturalmente rimaneva il dubbio se sono a basso rischio o rischio intermedio cosa dobbiamo fare? E così si partì con uno studio che si chiama Aduv uno studio partì molti anni fa l'accordo di Massimo Terzoro gli diede una mano per tutto quello che potevo fare e vedete che in questo studio nei pazienti a basso rischio rischio intermedio venivano randomizzate effettuare mitotani adjuvanti oppure la semplice osservazione. I risultati sono stati lo studio si è concluso e i risultati sono stati presentati da Massimo nel congresso europeo di endocrinologia in congresso americano di endocrinologia ed ha sottoscritto l'American Society of Clinical Oncology. Il disegno dello studio è questo i pazienti appunto venivano randomizzati a fare mitotani e osservazione l'obiettivo primario è il relapse free survival e l'aspetto molto importante è che quello studio reclutò tutti i centri che a livello internazionale si occupano di questa rara malattia quindi tutto il mondo ha partecipato a questo studio trattandosi della rarità della rarità perché parliamo di tumore del surrene a basso rischio non riuscimmo a reclutare tutti i duecento pazienti che avremmo voluto reclutare per cui sostanzialmente alla fine dopo dieci anni lo studio si è concluso con novantun pazienti arruolati di cui quarantacinque randomizzati a fare mitotane e quarantasei a fare la sorveglianza ma per rafforzare la diciamo così il risultato tutti quelli che per qualche svolta ragione non venivano inseriti nello studio veniva proposto di entrare a far parte di un secondo studio osservazionale in cui la distribuzione mitotane o sorveglianza non veniva decisa dalla normatizzazione ma veniva decisa o dal paziente o dal medico che lo stava curando quindi due studi paralleli i risultati cosa hanno evidenziato? il risultato più importante ha evidenziato che in quel sottogruppo di pazienti selezionati per essere a rischio basso intermedio la prognosi era assolutamente molto buona perché vedete che a cinque anni i settantacinque i pazienti di questi pazienti solo con la chirurgia non erano recidivati e questo ci sorprese moltissimo non era era assolutamente un dato inatteso e in questa popolazione che va spontaneamente decisamente bene il mitotane probabilmente qualcosa potrebbe fare ma vedete che la differenza è minima quindi considera anche la tossicità non è cost effective almeno sulla base di questi risultati dare il mitotane anche questa è un'informazione importante però vedete come i numeri di pazienti recidivati siano piccoli quindi sicuramente questo studio ha bisogno di un follow up lo stesso vale per la sopravvivenza non c'è una differenza ma vedete i morti per malattia sono due nel gruppo mitotane e cinque nel gruppo di controllo quindi veramente molto pochi a sottolineare che abbiamo selezionato una casistica di pazienti destinati ad andare spontaneamente decisamente bene e lo studio parallelo quello osservazionale non ha fatto che confermare lo studio del randomizzato e quindi alla fine concludiamo che il sottogruvo di pazienti va meglio rispetto a quello che ci aspettavamo e in questo sottogruvo di pazienti dare mitotane non serve e anche questa è un'informazione di assoluto rilievo malattia metastatica malattia metastatica cosa dico in linea guida dico che si può fare mitotane oppure che cosa quello schema che abbiamo messo in piedi a San Luigi riunendosi con professor Angi professor Dogliotti Massimo Terzolo e tutto il gruppo è che adesso è diventato è diventato lo schema di riferimento e come siamo arrivati a questo siamo arrivati facendo uno studio di fase 2 in tutta Italia ci mettemmo 13 anni ma alla fine i risultati finali li pubblicammo su Endocrine e Mater Cancer nel 2005 che in questo studio si evidenziò come effettivamente questo schema dava una risposta intorno al 50% dei pazienti con una mediana del tempo di 9 mesi ma con alcuni pazienti che andavano straordinariamente bene è una mediana di sopravvivenza di 28 mesi risultati non miracolosi ma sicuramente significativi che sottolineavano l'efficacia di questo farmaco bisognava fare di più bisognava sostanzialmente dimostrare che uno studio randomizzato questo schema era veramente più efficace degli altri altrimenti non potevamo considerarlo uno schema standard non riuscimmo non avemmo la forza di fare uno studio randomizzato ci pensarono i tedeschi il governo tedesco investì un milione e mezzo di euro per fare uno studio randomizzato internazionale in cui sono stati una 2.304 pazienti che hanno effettuato lo schema italiano oppure uno schema svedese che comprendeva l'associazione streptodotocina più mitotane i risultati sono quelli che vi faccio vedere in cui si evidenzia chiaramente un vantaggio in termini di progression free survival and overall survival se li vediamo così superficialmente consideriamo solo la mediana il messaggio che arriva sì c'è un vantaggio ma tre mesi di mediana di progression free survival in più non sono tantissimi però se osserviamo bene la morfologia delle curve ci rendiamo conto che se guardiamo a un anno a un anno ci sono 25% di pazienti non progrediti che hanno fatto di pipi mitotane contro solo il 9% di pazienti che hanno fatto streptodocina quindi a distanza di un anno il vantaggio è tre volte quindi è vero non stiamo parlando di una terapia miracolosa ma di una terapia sicuramente efficace per lo meno in un sottogruppo di pazienti questo è quello che abbiamo ottenuto ma per ora questo schema continua a essere l'unico efficace perché la moderna target therapy che tanto è servita in tanti in tanti pazienti con tumore del polmone con tumore del rene possiamo fare un lungo elenco in melanoma eccetera eccetera nel caso del calcinoma del surrene purtroppo per ora non ha avuto dei grandi risultati e anche la moderna immunoterapia che ha salvato tante vite e sta salvando tante vite in altre patologie pensiamo per esempio al melanoma come paradigma anche la immunoterapia nel calcinoma del surrene per ora non è uno standard e quindi per ora rimaniamo ancora fermi all'EDP più mitotale nel 2012 la vita è bella perché è imprevedibile tutta una serie di circostanze hanno fatto sì che io migrassi a Brescia lo feci con sicuramente con molto dispiacere però fu per il calcinoma del sur in un'occasione perché adesso il gruppo è diventato più grande prima c'era solo Orbassano adesso c'è anche Brescia quindi Brescia e Orbassano sono lo stesso gruppo che lavorano insieme e che continuano a produrre dati su questa importante patologia e cosa abbiamo fatto e mi ci specchiuto veramente tantissimo che i nostri mentori non non abbiano potuto partecipare abbiamo ovviamente telefonato entrambi ma non erano nelle condizioni per poter partecipare abbiamo coorganizzato a Brescia Massimo Terzolo e Dio in particolare il congresso l'ottavo edizione del congresso mondiale del surrene purtroppo abbiamo dovuto organizzarlo in webinar mode quindi tutte quelle persone malauguratamente non sono potute venire a Brescia in presenza ecco questo è il covid ci ha costretto questo però dal 27 anni dopo abbiamo iniziato nel 1994 nel 2021 abbiamo avuto la soddisfazione di organizzare il congresso mondiale su questa patologia cosa stiamo facendo di in questo momento beh lo studio più importante è questo nei pazienti ad alto rischio ci piacerebbe capire se l'aggiunta della chemioterapia al mitotane migliora ulteriormente i risultati quindi lo studio a Diovo 2 vede come diciamo così principal investigator Massimo Terzolo Mohamed Abra che è l'endocrinologo dell'Emilien del Cancer Center di Houston ma in Italia lo studio si chiama CACIA uno studio che è stato finanziato dall'AIFA abbiamo avuto questa fortuna e di conseguenza sono due studi paralleli che comunque si uniranno e riuniranno alla casistica e questo studio importante internazionale per ora è aperto solo in Italia e negli Stati Uniti concludo con questa diapositiva per dire grazie per dire grazie al nostro grande maestro abbiamo fatto molto e siamo molto fieri di tutto quello che abbiamo fatto ma i maestri ti danno lo stimolo ti insegnano come devi fare ti danno gli strumenti e se non avessimo avuto tutti questi insegnamenti non credo che avremmo ottenuto tutto quello che abbiamo ottenuto vi ringrazio grazie 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 Alfredo Berrutti sia delle tue parole che da quelle di coloro che hanno preceduto è emerso insomma l'affetto e la riconoscenza verso il professor Angeli che oltre a insegnare a voi la medicina e l'aveva insegnata molto bene ha dato anche un'impostazione etica metodologica olistica come già più volte è stato ricordato e soprattutto ha trattato e mi sapevo già di questo episodio del New England qualcuno mi aveva già detto è raro trovare una roba di questo tipo perché io vorrei insomma avendo frequentato a lungo l'ambiente universitario credo che francamente non sarebbe non è molto comune ecco diciamo così ecco anzi eccezionale quindi questo dimostra ulteriormente la statura del professore e anche di Gigi Doliotti che l'ha seguito poi a San Luigi ci sono delle domande delle curiosità degli approfondimenti che sicuramente i relatori sono disponibili nessuno facendo noi la pratica ambulatoriale quotidiana troviamo gli incidentaloni io personalmente ho difficoltà poi a capire a chi direzzare questo malato e in genere cerco San Luigi voi avete un'organizzazione da ricevere in maniera semplice facile anche per il malato ma noi abbiamo degli ambulatori di secondo livello dedicati alla patologia surrenalica uno dedicato specificamente al carcinoma del cortico surrene e altri alla patologia surrenalica in genere è chiaro che i numeri sono tanti e quindi noi non possiamo affrontare tutti i pazienti con incidentaloma surrenalico perché stiamo parlando probabilmente anche facendo una stima conservativa di un 2-3% della popolazione generale della popolazione adulta generale però abbiamo degli ambulatori dire che sia facile con il sistema sanitario italiano è una parola che insomma va un po' modulata certamente il sottoscritto la dottoressa Pia il professor Raimondo tutti noi siamo disponibili a chiamate dirette telefonate email segnalazioni di pazienti dopodiché questi questi nostri ambulatori sono nel sistema cup e sovracup però per questo valgono le regole del cup e sovracup ma ognuno di noi è pronto a rispondere a colleghi che ci mandano una segnalazione di un caso e quindi ovviamente a farlo che poi il modo con cui funziona la medicina cioè quando c'è hai qualcuno che ti deve segnalare un caso non interessante ma importante per il paziente lo vedi al di fuori di quelle che sono le liste di pronotazione però sì abbiamo un'organizzazione per questo ma i numeri sono enormi i numeri dell'incidente al lomo mentre il carcinoma l'ha detto molto bene il carcinoma sono pochi ma gli incidenti al lomi sono veramente una marea mi ha colpito una diapositiva che se non sbaglio ha presentato Giorgio Borretta sulla incidenza dei cuscini diabetici noi abbiamo direi il quadro c'è uno specchio diciamo così un paragone con i pazienti osteoporotici perché a me è capitato diverse volte di fare gli angiosi di cuscini in pazienti che venivano per cedimenti vertebrali magari vertebroplastiche ortopedici bisfosfonati e andiamo avanti così ma effettivamente il fatto di pensare a una malattia così rara tutto sommato partendo dal diabete o dall'osteoporosi che sono molto comune è effettivamente un'intuizione geniale e come lo sapere c'è anche te è capitato la stessa cosa si hai perfettamente ragione anche l'osteoporosi è una porta di ingresso importante per il riconoscimento di questa patologia la peculiarità del diabete in particolare il diabete tipo 2 e più in generale la senda metabolica è la sovrapposizione delle caratteristiche fenotipiche che da un lato è pressoché identica salvo che per alcuni segni specifici che nel Cushing sono patognomonici ma che nonostante ciò non induce nella routine clinica ha un'attenzione specifica nei confronti di questa possibile cirurgia a differenza dell'osteoporosi che non ha questo fenotipo del tutto sovrapponibile o molto simile a quello del diabete e del Cushing bene ci sono altre domande prego c'è il comandone prendi il microfono è lì perfetto vorrei spendersi due parole le linee guida esmo le abbiamo tutte presenti però sulla diagnosi soprattutto una fase iniziale di un carcinoma rispetto a forme differenti cioè i nuovi esami le nuove TAC la PET eccetera vengono in aiuto dobbiamo arrivare direttamente all'atto chirurgico bioptico per dare una diagnosi e quanto la biopsia ci dice effettivamente c'è il di te di una diagnosi grazie allora è una domanda importante perché spesso in second opinion osserviamo diciamo delle difficoltà che i colleghi hanno riscontrato nell'arrivare ad una diana la prima cosa da fare è un hormone workup cioè la prima cosa da fare è chiedere gli esami ormonali perché un cushing subclinico potrebbero sfuggire ma invece gli esami ormonali lo risaltano e soprattutto oltre non accontentarsi solo dei libri di cortisolemia ma mi insegnano gli endocrinologi fare anche il test inugente il test inibizione di esame metazone se la malattia è siccome il 70% di quelle malattie producono ormoni quindi nel momento in cui hai un sintomo un'anoplasia metastatica per esempio e una iperproduzione ormonale e beh già sei molto orientato verso una patologia primitiva delle surrene rispetto alla patologia secondaria se la malattia non è metastatica le mie guida dicono non ha senso fare la biossia si va all'intervento chirurgico escluso che ci sia qualsiasi altra cosa non ci sia una seconda neoplasia si va all'intervento chirurgico la diangelo la fa dopo l'intervento chirurgico il problema succede quando la mattia è metastatica quando la mattia è metastatica il problema c'è se non è sacernente allora in quel caso effettivamente nelle forme non sacernenti possiamo trovarsi nella difficoltà di capire se è primitivo o secondario e allora in questi casi la biopsia ha senso ma se ci troviamo di fronte ad esempio ad una massa surrenalica e la secrezione concomitante di cortisola di androgeni la biopsia non ha nessun senso perché sei sicuro di essere di fronte a un carcinoma della corticale del surreno bene ci sono altri interventi se no io concludo questa mia questa riunione ringraziando ovviamente tutti i relatori ringraziando salutando con affetto i familiari del professor Angeli che si sono fermati fino alla fine come ed uso dell'accademia noi cerchiamo di come dire valorizzare quanto è più possibile gli aspetti scientifici delle persone dei soci in questo caso di un socio molto autorevole e credo che gli suoi allievi siano riusciti a sottolineare questi suoi aspetti scientifici di primo livello come caratterizzanti della sua attività accademica vorrevo soltanto ricordare che abbiamo definito il titolo della seduta del 16 dicembre quando verranno eletti i nuovi soci e sarà il professor Piazza che commenterà il premio Nobel della medicina che è stato sapete segnato per uno studio di genetica e quindi ci pareva la persona più adatta per farlo comunicheremo con i soliti sistemi il titolo della relazione invece fra prossime due settimane circa anzi non circa tra due settimane ci sarà la seduta inaugurale in cui abbiamo ritenuto di coinvolgere l'amico e socio professor Giovanni Di Perri che ci parlerà di un aspetto importante del fisiopatologia clinica e trattamento del long covid nella stessa riunione ci sarà ovviamente la mia prolusione all'anno accademico ci sarà anche alcune altre convenze tipo la consegna ai familiari del professor Dianzani del premio Palasciano che la società italiana di chirurgia ha conferito per il libro su Gessinto Pacchiotti che è stato rieditato da Mario Nano e da Irma Dianzani e quindi io vi do l'appuntamento a venerdì 18 17 30 ricordiamoci non è più alle 21 ricordo ai soci che è bene che vengano un po' di più anche perché insomma noi siamo ben intenzionati a invitare a lasciare il posto coloro i quali per anni non si fanno vedere cosa che abbiamo già fatto quest'anno e penso lo rifaremo l'anno prossimo anche vogliamo dare un turnover a questa accademia noi ce la mettiamo tutti facciamo tutto il possibile tra l'altro non ci siamo messi a vendere il vino come qualcuno mi ha chiesto venendo su vedendo il gazebo nel cortile ma semplicemente è stata una iniziativa dell'associazione commerciante di Via Po che ci ha chiesto il cortile tra l'altro non è pure nostro perché è del comune insomma è tutto un condominio un po' un po' strano anche un po' litigioso ma di fatto è servito anche per valorizzare l'accademia far vedere gli affreschi che sono stati ristrutturati nell'Androne dopo 40 anni circa di oblio e quindi cerchiamo tutti insieme di dare una mano se i soci ci danno una mano molto bene se no senza cercheremo altri soci più volanterosi e con questo vi ringrazio vi do l'appuntamento appunto venerdì 18 vi auguro una buona serata e anche un buon fine settimana buona serata a tutti